Il reato di tentata epidemia per cui si rischia l'ergastolo a carico della virologa romana ma padovana di adozione Ilaria Capua è decaduto per volere dello stesso pubblico ministero dell'inchiesta, aperta dalla procura capitolina e trasferita a Verona per competenza territoriale relativa al cosiddetto virus dalle uova d'oro, in tempi, si parla di un decennio fa, caratterizzati dai timori legati ad una possibile diffusione di massa del virus dell'influenza aviaria. Restano in piedi invece le contestazioni di associazione a delinquere finalizzate alla concussione e alla corruzione in merito ad una vicenda per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio della virologa, da tre anni deputato alla Camera, e di altre persone tra cui il marito Richard John William Curry, incaricato alla vendita del kit diagnostico proprio della viaria per conto di un'azienda americana di cui era funzionario. Secondo l'accusa, le persone coinvolte avrebbero stipulato contratti per la cessione del brevetto del test discriminatorio realizzato all'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro alle porte di Padova, di cui la capo era direttrice, nell'esclusivo interesse di due aziende, in cambio di regalie e finanziamenti di vario tipo per congressi e progetti di ricerca, cedendo alle stesse ceppi virali della famigerata influenza aviaria senza le necessarie autorizzazioni ministeriali.